Nel Consiglio regionale di domani 5 dicembre Andrea Biancani porta all'attenzione una nuova carenza di risorse che va a incidere pesantemente sulla sanità marchigiana. Sì, devo dire che mi sono accorto che per il mese di dicembre la Regione Marche ha completato il budget per quanto riguarda le persone che ad esempio sono attualmente ricoverate all'ospedale, che hanno avuto un'operazione ortopedica oppure un altro tipo di operazione ed hanno bisogno di andare ad esempio nelle strutture di Villa Fastigi, di Macerata Feltri, a Cagli, o per la riabilitazione o un RSA o per cure intermedie, queste persone vengono mantenute all'interno dell'ospedale perché i posti letto ci sono, rimangono vuoti, ma non ci sono le risorse appunto per portare queste persone per far sì che prima di andare a casa possono passare un periodo intermedio all'interno di queste strutture che sono nate apposta. Quindi quello che sta avvenendo è che vengono occupati i posti letto all'interno dell'ospedale, le operazioni vengono inviate perché i posti letto sono occupati e dall'altra parte quelle strutture che dovrebbero raccogliere le persone che devono uscire dall'ospedale, perché ricordo che un paziente in ospedale ha un costo anche eccessivo rispetto al costo che invece ha in una di queste strutture, ad esempio Villa Fastigi, vengono mantenuti all'interno dell'ospedale appunto per carezza di risorse. Dal mio punto di vista è veramente una scelta sbagliata e ho chiesto alla regione di ripristinare immediatamente le risorse che servono perché è assurdo che questi pazienti vengano mantenuti all'interno dell'ospedale.